Ciao ragazzi, ciao! Un saluto da Catania, vi salutiamo veramente da quest'aeroporto. Dopo una decina di voli in 20 giorni. Wow ragazzi, guardate, è stato veramente intenso, scusateci se siamo stati poco presenti, ma è veramente stato per una buona causa. Allora, iniziamo 20 giorni fa, abbiamo fatto il nostro wellness retreat, il numero 24. La 24esima edizione. Sì, sì, siamo stati a Lugano per 10 giorni, è stato un ritiro fantastico, abbiamo avuto dei begli obiettivi, abbiamo raggiunto comunque tutti gli obiettivi, i risultati sono stati fantastici, quindi tra i massaggi, il nostro workout che è il 24, 48, 88, voi sapete già, no? E anche la nutrizione, i nostri consigli nutrizionali, siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi da richiesti dai nostri clienti. Quindi siamo super contenti, ma non finisce lì, siamo stati a Malta, un evento pazzesco ragazzi, veramente Daniele Di Benedetti, fantastico il nostro coach, è stato un evento di crescita personale, è stato molto molto intenso, bellissimo, veramente abbiamo scoperto delle cose nuove, abbiamo ancora il nostro futuro, come sempre, è il futuro... Ringraziamo anche il nostro gruppo di pari che... Sì, Chiara, Aldo, tutti, tutti, tutti i nostri, i nostri coach, i nostri... Sì, tutti, dire i nomi sarebbe tantissimo, perché c'è tanta tanta roba ragazzi, tanti, Laura, Emanuele, tanti ragazzi comunque, tutti fantastici, tutti persone meravigliose che noi siamo veramente grati di aver conosciuto, però ancora non abbiamo finito, stiamo lavorando, stiamo lavorando ancora per voi, perché voi sapete che noi stiamo lavorando un grandissimo progetto per lo spa e massage business, voi lo sapete che questo, diciamo, è un capitolo nuovo che si sta aprendo, diciamo, per voi, proprio per aiutare questo settore, che è un settore comunque che ha bisogno, è grandioso, già bellissimo così com'è, ma noi vorremmo dare comunque un valore aggiunto con la nostra esperienza. Quindi siamo tornati proprio adesso dalla sede dove andremo a fare la nostra New Waco Wellness Spine Massage Academy. La nostra accademia di massaggio. Guardate, siamo super entusiasti, già abbiamo fatto le prime call, abbiamo fatto le prime consulenze con i ragazzi che si stanno già, hanno iniziato già a reclutarsi, quindi preparatevi, se avete, qualsiasi domanda avete da fare, che volete fare, perché comunque a breve inizieremo i primi percorsi, perché i nostri sono dei percorsi, sono proprio dei percorsi accademici, non sono dei corsi singoli, assolutamente no, quello anche si può fare, ma in situazioni differenti, ma non faremo comunque, quello che noi interessa è portare il professionista da zero a portarlo a poter lavorare in un hotel a 5 stelle ed essere uno spa therapist di successo, che quello è il nostro obiettivo assoluto, è quello che noi abbiamo fatto. Tutta la nostra esperienza dalla Thailand, dagli hotel a 5 stelle, vogliamo trasferirla a voi, a trovare la strada più libera possibile a chi vuole ottenere un successo assicurato. Assolutamente ragazzi, e vi diciamo un'altra cosa pure, che non solo lavorerete a livello tecnico, ma anche a livello fisico, a livello mentale, perché lo spa therapist, come voi ben sapete, ha bisogno tanto, tanto supporto, perché le ore in cabina sono tante ed è bello comunque fare un lavoro ed essere felici e farlo in un modo, nel miglior modo possibile. E noi abbiamo la pillola, la pillola, noi abbiamo la nostra esperienza che possiamo trasmettere a voi. Quindi ragazzi, state connessi, mi raccomando, se qualcuno ha qualsiasi domanda sul discorso della Spa Academy, scriveteci così, organizziamo le call, perché già siamo, ragazzi, ci siamo quasi, quindi prepariamoci, 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 ci siamo. Ciao, un abbraccio da Catania e scusateci ancora che non siamo stati presenti tanto, ma siamo tornati, ciao, ciao.